I patti di collaborazione, ovvero quei patti di fiducia che i cittadini attivi, proprietari dei beni comuni e gli enti pubblici stringono decidendo così di prendersi cura delle loro città, sono ormai una realtà consolidata in Toscana. Tante le esperienze che stanno dimostrando che amministratori locali e cittadini possono giocare insieme un ruolo fondamentale per rispondere alle attuali e complesse sfide urbane e offrire un modello di cura della città dove pubblico e privato collaborano in un'ottica di sussidiarietà finalizzata al miglioramento della qualità della vita. Queste esperienze sono state al centro del convegno La Città della Cura, organizzato da Regione Toscana, ANCI e LABSUS, Laboratorio per la Sussidiarietà e dedicato al confronto e alle prospettive dei patti per la sostenibilità ambientale nel contesto nazionale ed europeo, un tema particolarmente sentito anche alla luce dei recenti eventi che hanno colpito la nostra Regione, non ultima l'alluvione del novembre scorso. Una mattina di lavoro e di riflessione, un contributo che l'ABSUS, ANCI, il Comune di Firenze e la Regione Toscana stanno mettendo a fattore comune. I temi dei patti di collaborazione, delle cooperative di comunità, dei processi di partecipazione sono in Toscana un'esperienza consolidata, che ha anche un quadro normativo di riferimento solido, che ha bisogno di essere aggiornato e questo percorso è un percorso per noi mirato anche alla innovazione e l'implementazione delle norme alle quali facevo riferimento. Si tratta sostanzialmente di valorizzare, di mettere a fattore comune le reti, la capacità di questa Regione, ma che è comune nel nostro Paese, di essere cittadini attivi anche oltre ai ruoli istituzionali, per riuscire ad avere una ricaduta reale e vera nel controllo, nella promozione e nella valorizzazione del territorio. È un processo complesso con molte prospettive e dobbiamo insieme cercare di esplorarlo per mettere davvero a valorizzare davvero quello che può caratterizzare meglio la nostra Regione, la nostra capacità di dare risposte solidali, sussidiarie alle difficoltà, come le ultime emergenze ambientali hanno dimostrato che è necessario mettere davvero al sistema. Saranno state proprio anche queste emergenze che hanno creato un collante ancora più forte verso la società? Lo testimonia anche la grande adesione di stamani? Quello che ogni volta ci sorprende, ed è strano che accada, è che scopriamo che i cittadini vogliono essere protagonisti, che non esiste semplicemente un meccanismo di delega a chi ha responsabilità e ruolo, ma quando c'è una necessità la cittadinanza dà una risposta. L'hanno data questa volta ancora una volta ai nostri giovani, ai nostri ragazzi, ma alla comunità tutte. La risposta di sistema è arrivata, ma ha trovato una enorme e assoluta priorità di intervento da parte dei cittadini.